Il prossimo intervento in realtà è un panel, ci saranno degli ospiti e Andrea Frollà, che invito a raggiungermi sul palco, gestirà questo momento nel quale fondamentalmente ci metteremo a confronto su alcuni casi reali. Che cosa è successo, che cosa abbiamo dovuto in qualche modo affrontare, quali sono le lesson learned, quali sono gli errori che una volta che sono stati in qualche modo compiuti non vogliamo più compiere. Per cui buon lavoro. Grazie. Allora grazie della presentazione Alessandro e benvenuti a questo panel dedicato all'intelligenza artificiale. Io vorrei esordire subito con una parola ed è AIP, quattro lettere e chi ha assicurato. Se c'è una tecnologia che rappresenta al meglio il concetto dell'AIP, quella è senza dubbio l'intelligenza artificiale. Forse se la batte solo con la blockchain. Nelle cronache digitali ormai praticamente non si parla di altro. Robo, chatbot, machine learning, deep learning e chi più ne ha più ne metta. Guarda Andrea che la colpa forse è anche e soprattutto di voi giornalisti, potreste dire voi. Ed effettivamente non avrei molte argomentazioni per difendere la categoria. Non vi dico tutto questo per fare la distribuzione delle colpe, ma perché l'AIP porta con sé alcuni effetti collaterali. Il primo, e forse il più evidente, è la perdita di credibilità del tema. Io mi ricordo sempre quando c'è stato il boom dell'intelligenza artificiale, mi arrivavano tantissimi email con annunci di progetti legati all'intelligenza artificiale. La mia prima reazione era quasi sempre, vabbè sì, ecco un altro che vuole salire sul carro dei vincitori. C'è però un secondo effetto collaterale, strettamente legato al primo, che secondo me è ancora più importante. Ed è il blocco sulla linea della superficialità, quando un tema supera la soglia dell'AIP diventa difficilissimo andare in profondità. Il carro dei vincitori diventa così affollato che diventa difficile distinguere chi fa innovazione da chi dice di fare innovazione. Come immaginate è un problema grosso per noi che raccontiamo ciò che accade perché siamo obbligati ad essere molto più attenti e ad effettuare molte più verifiche, ma personalmente credo sia un problema anche per il mondo dell'impresa perché abbassa il livello della competizione spostandolo dalla concretezza alla narrazione. Vi do subito una buona notizia, il panel di oggi va esattamente nella direzione opposta, non discuteremo di massimi sistemi, quindi state tranquillissimi, ma andremo nel dettaglio di alcune esperienze concrete. Ci faremo raccontare le esigenze di partenza, gli step messi a terra, le lezioni imparate e i vantaggi ottenuti. Discuteremo poi con i nostri ospiti anche di altro, ma credo di avervi detto già troppo, quindi mi fermo qui e apro il waltzer delle nostre case history chiamando sul palco Marco Colosi, Head of Artificial Intelligence di Enel. Potete applaudire tranquillamente. Hai un microfono, hai il telecomandino, il palco è tutto tuo. Ciao, buongiorno a tutti, appunto sono Marco Colosi e mi occupo di innovazione in generale. Oggi seguo, sono il responsabile per Enel Mercato Libero dell'introduzione di un motore di intelligenza artificiale conversazionale che possa offrire ai clienti l'opportunità di conversare con Enel e facilitare l'esecuzione di alcuni processi automatici di caring che questo svolge spesso sui diversi canali di gastro-mercati di Enel. Quindi oggi vi racconto un po' questa esperienza, da quale esigenza è nato, come si è svolto e cosa abbiamo affrontato durante questo percorso. Ok, intanto le esigenze di partenza. Le esigenze di partenza sono di due tipi. In primis tecnologico, il desiderio era, vedete il pallino centrale, di identificare e realizzare un unico motore di intelligenza artificiale che dialogasse con i sistemi di Enel nella condivisione di dati e nell'esecuzione di processi in modo centralizzato. Quindi immaginate questo training della macchina, questa intelligenza artificiale unica, poi esposta su quattro canali, digitali e non. Ovviamente ciascuno con le proprie peculiarità. Sui canali digitali è necessario, per esempio, indirizzare l'utente verso una determinata operazione. Di conseguenza offrirà al cliente immagini, bottoni, in modo che lui possa scegliere correttamente. Allo stesso modo, invece, al telefono fornire un'esperienza più empatica, quindi una voce più calda e allo stesso tempo professionale. Ovviamente con le difficoltà che un'intelligenza artificiale conversazionale a voce questo comporta. In pallallero rispetto a un'esigenza puramente tecnologica ci sono ovviamente necessità di business. Prima tra tutto è quello di riportare un'efficacia, un'efficienza in termini di tempi di risoluzione delle operazioni che il cliente deve svolgere. Oggi un cliente ci telefona oppure sta in chat con noi e aspetta cinque minuti prima di parlare con un operatore. Immaginate un'intelligenza artificiale che non prevede code. Questo quindi agevola l'interazione del cliente con il mondo Enel e, vado al punto 4, ovviamente migliora la user experience dello stesso in termini di velocità dell'esecuzione. Tutto questo, ultimo ma non ultimo, ovviamente c'è una logica di riduzione di costi, cost saving legata a una riduzione delle interazioni con human-human verso un agente reale, in sostituzione quindi un assistente virtuale ovviamente con costi diversi. Per realizzare tutto questo, da dove siamo partiti? Non è stato un processo semplice, questo è una semplificazione che non rende merito al lavoro fatto veramente. Tuttavia siamo partiti nel lontano 2018 in cui effettuammo diverse POC con player minori sui diversi canali digitali e realizzammo alcuni chatbot. La misurazione dei KPI che noi trovammo e che misurammo ci diede immediatamente la misura del fatto che dovevamo subito fare uno scale up, cioè dovevamo portare una soluzione che era nata come una soluzione piccola e portarla su una scala più grande. Abbiamo quindi previsto un percorso che partiva da uno scouting tecnologico nell'identificazione di quelli che sono i prodotti del mercato offre per la realizzazione di un assistente virtuale ovviamente. Scelto quello più aderente alle nostre esigenze abbiamo iniziato quello che è un percorso che ora vedete qui in un classico piano waterfall per chi ne è affine, ma in realtà è stato fatto tutto in agile, questa è una semplificazione dicevo. Quindi abbiamo predisposto l'infrastruttura e ovviamente poi abbiamo fatto quelle attività che sono specifici per questo tipo di progetti. Quindi l'analisi dei dialoghi, dei flussi conversazionali, cioè questo bot come parla al nostro cliente? Cosa gli dice? Che frasi mette? Che terminologia utilizza? Nonché il training e il test, questo è un argomento un po' delicato su cui magari torno più avanti. E siamo nelle prossime settimane, speriamo sempre incrociando le dita di andare in produzione con questo oggetto. Difficoltà ne abbiamo incontrate infinite, vi lascio immaginare. Qui abbiamo riportato soltanto quelle un po' più rilevanti. In primis, proprio perché come ci raccontavano gli interventi precedenti sull'intelligenza artificiale, da una parte è un argomento di cui tutti parlano, dall'altra è un mercato che ancora non è necessariamente maturo, in particolare in Italia. Quindi l'identificazione di competenze specifiche che possano eseguire le analisi che abbiamo visto prima e tutte le attività che abbiamo visto prima è stato molto complesso. Cioè gli esperti del dialogo, chi sono? Sono le figure che oggi ricoprono il marketing, la comunicazione o piuttosto sono gli psicologi. Cioè questo è un mondo che ancora va esplorato. Ovviamente una forte resistenza al cambio di modello. Immaginate che nel parlare di un assistente virtuale, cioè dentro l'assistente virtuale ci sono infinite competenze, quindi non può essere una componente solo tecnica a occuparsi del progetto. Qui dentro ci sono aspetti legali, di comunicazione, di marketing, psicologici addirittura. Quindi è necessario che un progetto di questo genere venga portato in un lavoro di tipo agile in qualche modo, dove tutte le competenze lavorano insieme sinergicamente. E poi in ultimo, ma non ultimo, perché questo è forse il più complesso, la necessità di un training costante, di un learning della macchina. La realizzazione di un assistente virtuale è come, il paragone è estremamente forzato, ma la nascita di un bambino. Cioè questo bambino ha un cervello per imparare, però un neonato non sa niente del mondo, ha un cervello che è fatto per imparare, però bisogna dargli gli input perché questo impari. E un neonato smette mai di imparare? No, diventa prima un bambino, poi un adolescente, poi un adulto. E così gli assistenti virtuali hanno una necessità di training che parte dall'ambiente di sviluppo, con l'auto perché è più tecnico, ma soltanto in produzione, soltanto parlando con i clienti riceve la vera variabilità del mondo. E quindi solo lì puoi imparare veramente. Ovviamente i vantaggi, i benefici che ci attendiamo da questo oggetto che ancora non è stato rilasciato verso i clienti sono speculari rispetto agli obiettivi iniziali. Quindi da una parte la cost reduction per la riduzione delle interazioni human, ma ovviamente un aumento della qualità del servizio. Noi ci aspettiamo che un assistente virtuale possa soltanto aumentare la soddisfazione del nostro cliente. In primis perché un assistente virtuale è disponibile a H24, cosa che salvo rari casi i customer care non possono avere. Quindi questo risponde a mezzanotte e mezza del sabato sera e può fare operazioni automatiche per il cliente. Inoltre fornire al cliente un'esperienza positiva vuol dire che il cliente se vive un'esperienza positiva con un nostro assistente virtuale aumenta il trust verso l'azienda. Cioè vede che l'azienda è in primis un'azienda digitale che sta evolvendo, in secondis che lo aiuta nell'esecuzione di quei processi che spesso sono troppo difficili da portare a termine per quanto di basso valore. E quindi con il conseguente aumento della soddisfazione. E in ultimo il miglioramento della qualità del servizio e della user experience fornendo immagini e quant'altro. A chiudere le lesson learning imparate finora, quelli che sono stati un po' i punti chiave che abbiamo dovuto affrontare e discutere. In primis è necessario quest'onda di trasformazione, cioè un progetto di questo genere non può funzionare se non c'è commitment da parte di tutti. Dalla parte tecnologica, alla parte di business, alla parte del caring stesso. Cioè il customer care è centrale in questo punto. E vado direttamente al terzo punto in questo caso. Perché un assistente virtuale non può, almeno oggi, sostituire in maniera drastica un'interazione human per human. Può facilitarla, può fare quelle operazioni più a basso valore, quelle che spesso il nostro caring perde tempo a fare. Ma non può mai al momento sostituire l'empatia che c'è human per human. Quindi facciamo il caso di Enel, se abbiamo un guasto elettrico o piuttosto il caso di una banca, se perdiamo una carta di credito, abbiamo fretta di parlare con qualcuno che ci rassicuri. Fretta e non possiamo aspettare una macchina che ci dice sì, quale vuoi, cosa non vuoi. Quindi in questi casi è necessario, ed è una delle lezioni che stiamo imparando, che l'interazione human-plasmachine sia al massimo sinergica. Quindi mettere un assistente virtuale nel posto giusto, non su tutto. Torno indietro per dire che un assistente virtuale necessita anche di un'identità propria, forte. È necessario fornire a un assistente virtuale sia una propria personalità e inoltre dare al cliente la massima empatia possibile a questo punto. Quindi fornire immagini, video, file, condivisione che sembra al cliente, che dà al cliente una maggiore soddisfazione nell'interazione. Il quarto è sicuramente più importante, mi collego a quello che dicevo prima. Oggi non esistono necessariamente tantissime figure che sono esperte in questo, esistono tantissimi data scientist, esistono tantissimi sviluppatori, di esperti di intelligenza artificiale, come diceva Andrea, ancora siamo manchevoli e non stiamo parlando esclusivamente della componente tecnologica. È necessario trovare nuovi talenti in ambito di progettazione dei flussi, in ambito di design degli stessi, in ambito tecnologico ovviamente e anche sul tema legale per esempio. Queste macchine cosa registrano il nostro cliente? Il tema del GDPR che qui dentro è fondamentale, cioè come fanno a imparare? Imparano, si prendono tutti i dati? Insomma la riflessione che dobbiamo fare è che oggi stiamo costruendo i mestieri di domani e quindi è bene che ci iniziamo a preoccupare. Grazie. Grazie.